Buona serata amici e amiche del Titolo TV, eccoci qua, di nuovo con un approfondimento sul mondo sociale, sul mondo globale, con la nostra Rubinia De Svampis, arciduchessa imperiale del Principato del Menefottessimo. Buonasera arciduchessa, come va? Undicesima puntata! Sì, undicesima puntata, buonasera, l'approfondimento del Minchia Brand. Ovviamente il Minchia Brand è ormai 11 puntate, tra l'altro le dirò, sono vicini gli europei e con questa undicesima puntata abbiamo già la squadra femminile e la squadra maschile. Non so quanto potremmo ambire ad arrivare tra i primi tre a livello mondiale, ma insomma noi gli abbiamo servito su un piatto d'argento, speriamo nell'allenamento. Perfetto, non ho capito, una minchia, andiamo avanti. Allora, le parlo di un esemplare sempre del Minchia Brand, perché questo è un esemplare mitologico, senza tempo. Tra l'altro, scusi se la interrompo, credo che questa sia l'ultima puntata stagionale, poi la vedremo magari su altri lidi spiaggiosi, nevati, non lo so, dipende. Nella capsula criogenica. Ah, ecco, ognuno conserva come può. Come può. Allora, le stavo dicendo, prima che lei mi interrompesse, che parlerò appunto dell'uomo minchia Tirchiazzo. Aia! Questo è un esemplare mitologico, senza tempo, non si sa quanti anni ha, non si sa a quanti anni è diventato Braccetto Corto, ma gli studi approfonditi e fantascientifici che ho svolto, mi hanno portato a capire che il minchiofono Tirchio nasce proprio così. È una caratteristica presente nel DNA, incollata alle ossa, che scorre nelle vene arrivando fino alle sinapsi che vanno in tilt, quando si parla di soldi e al posto delle pupille si forma la lettera M di Mani. Lo si riconosce subito, l'uomo minchia Tirchiazzo. Allora, tu dici, domani andiamo a pranzo in quel locale stupendo che hanno inaugurato la settimana scorsa, e lui diventa Paonazzo, passa dal rosso fuoco al blu verdognolo del viso, che si gonfia come una mongolfiera che sta per esplodere. Ah, le interrompo un attimo, ma cos'è? Come tatuaggio paperone dei paperoni, perché insomma stiamo lì, anche lui diventava Paonazzo, vabbè, buonanotte, diventava quello che diventava. No, è il tatuaggio della M negli occhi di Mani, quello. Allora, gli occhi sono già fuori dalle orbite, la giugolare pulsa e gli sta per venire un infarto, quindi respira a fatica e inizia a sudare freddo. Altro che 118, qua ci vuole proprio il miracolo, anzi una parolina miracolosa. Lei sa qual è? Boh, risparmio, non lo so, l'unica maniera per poterlo, per fargli un defibrillatore è quando gli spieghi è gratis e guarda caso c'è la convenienza. Quasi, 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 la parola miracolosa è sei mio ospite e piano piano l'uomo minchia, tirchiazzo, riprende un colore decente, respira meglio, ha smesso di sudare come una bavosa del Mar Caspio che non so neanche se esista, oppure una maratoneta alla fine della corsa di New York e ricomincia a parlare senza balbettare. Le è mai capitato di incontrare un esemplare mitologico di questa specie? Purtroppo sì, e tutte le volte c'avevano l'orchite alla mano nel momento in cui, dopo pranzo, dopo cena, dovevano buttare le mani al portafoglio. Io ne ho sentite tante di quelle che ne potrei fare la lista, le scuse più banali. La minchia lista, posso dirle che culo? Sì, me lo sono ripetuto più volte anch'io quando c'era io da pagare, vabbè, comunque. Allora, il minchiofono della specie tirchiazzo è pure quello che ti invita a pranzo, ma nella trattoria dell'amico, del cognato, della sorella di sua nonna in via Culandia, numero boh, che non è presente nemmeno su Maps e ti dice ci vediamo direttamente lì alle tredici, non passa neanche a prenderti, che da un lato è pure meglio così alle brutte scappi lasciandola al suo destino e al suo conto misero come lui. Il conto tirchio, perché sempre che tu abbia ancora voglia di mangiare la pasta fatta in casa, la casa di chi poi, con il ragù che di ragù non ha neanche l'idea, è due uova strapazzate che gridano vendetta e che non sarebbero neanche utilizzate per una colazione inglese, tanto sono strapazzate male, quindi tra un trick e ballacche e l'altro, comprese le due palline di gelato servite dentro la coppetta di carta anni 80, avrà speso sì e no 15 euro in tutto, acqua inclusa perché è del rubinetto e nemmeno filtrata che serva de mandra. Cioè, si è dilapidato in pratica con 15 euro? Sì, sì, proprio è caduto in disgrazia. L'uomo minchia tirchiazzo è quello che hai sposato e che già ti ha fatto esaurire durante i preparativi del matrimonio, perché non gli tornavano i conti delle bomboniere e che se andate a fare la spesa ti chiede la restituzione della metà dello scontrino e se ritardi di un giorno ti calcola pure la rivalutazione monetaria. Cioè, io non immagino questo nell'alta finanza, tra i sali e scendi di questo periodo va a finire che consumano delle pasticchie di Malox, perché non gli viene bene una poi alla fine conti, eh? Ma questo scende solo. Oppure, l'uomo minchia tirchiazzo è quello che ti corteggia per intero con quella faccia da beota che si ritrova, però è capace di dirti, paghi tu l'aperitivo? Ora io dico, che brutta figura al primo appuntamento, chiamate l'ambulanza, perché questo è il primo e ultimo appuntamento, perché se un uomo minchia esordisce così la prima volta che ti incontra, non merita neanche una seconda chance. Ma poi mi chiedo, ma ha nessuna vergogna? No, perché evidentemente ci hanno la faccia come il bronzo, per non usare un altro femmismo, però io, paghi tu l'aperitivo che cosa vuol dire? Cioè, nel senso che io pago l'aperitivo e poi a cena ti do, lo paghi tu? Oppure lasciamo perdere? No, 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 paghi tu l'aperitivo, mica il tirchiazzo, ma paghi tu l'ospite del tirchiazzo. Sì, 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 ma pensavo che l'aperitivo lo pagasse lei e poi lui la cena, invece no. Ma poi lui la cena, si ammazza piuttosto, non esiste. Comunque, diciamolo chiaro e tondo una volta per tutte, chi è uomo minchia tirchiazzo fuori, lo è anche dentro, braccetto corto e cuore di pietra. Vabbè, per dirla in modo aulico, corre de pietra, che fa tanto international. Agevoliamo con foto di razza tirchiazza dal braccino corto. Ce l'ha la foto che le ho inviato, signor Francesco Donato Bianco, scritto tutto attaccato? No, perché risparmio pure io sull'invio delle mail. Ah, ha capito, quindi non le è arrivata la mia fotografia dell'uomo minchia tirchiazzo? No, secondo me c'è stato qualche filtro, non l'ho vista. L'uomo minchia tirchiazzo è talmente tirchiazzo che ha fatto sparire anche la foto. Vabbè, transeate, insomma. L'uomo minchia tirchiazzo è come quell'essere che nasce tondo e non può morire quadrato. Quindi, circolare. Cioè, roba da rispedirlo dritto a quel paese, contrassegno. E se per caso l'hai sposato, ma io dico a te, ma come hai potuto? Roba da chiedere il divorzio dopo una settimana di minchia tirchiaggi nel risarcimento di tutti i danni. Dai illusione, perché ti eri illusa di poterlo cambiare, ma anche lì ti ha chiesto l'interesse. Quindi, chiama la neuro, neni, neni, neni. E soprattutto, la prossima volta se cerchi di sposare un tale soggetto, fate un mutuo in banca che ti costa meno. Più o meno. La minchiata l'ha detta, comunque. No, vabbè, ok. Vabbè, l'uomo l'abbiamo fatto. Adesso passiamo all'undicesima donna, l'attaccante. Sì, la donna minchia furbazza. Ecco, attaccante proprio precisa, va bene. Sì, appunto. Allora, questo è uno degli esemplari più funesti del minchia, Brand. Una volpe della peggior razza, di quelle che non arriva all'uva e dice che acerba. La donna minchia della serie furbazza te la vuole fare sotto il naso, credendo che tu non lo venga a scoprire. Che cosa? Sì, vabbè. Allora, qualsiasi cosa possa dare un vantaggio a lei, creando un danno a te. La minchia furbazza si intrufola, squiscia ovunque, calpestando chiunque si frapponga fra lei e il suo obiettivo. Accade spesso di accorgersi dei furti di contatti, soprattutto in questa era dominata dai social. Allora, quell'amico tuo da una vita, quella pure da almeno dieci anni e tra gli amici in comune della donna minchia furbazza, ritrovi l'amico del quale le avevi parlato due secondi prima. Ma che furbazza sei se subito dopo la tua richiesta il mio amico mi scrive chi è questa che mi ha appena chiesto l'amicizia? Cioè non ci fai una bella figura, ma proprio per niente furbazza dei miei stivali. Con un tempismo perfetto direi, perché se aspetti manco due secondi a meno, dagli tempo di decantazione all'amicizia. Appunto. Esempio numero due. L'amica minchia furbazza scrive senza dirtelo e quindi in mala fede al quadrato a una tua amica influente per proporle una collaborazione lavorativa. Allora, ovviamente la persona in questione per prima cosa che cosa fa? Mi contatterà per farmi la stessa domanda dell'amico sopracitato. Quindi in un periodo molto breve tra la cattivazione e la scoperta, la donna minchia furbazza verrà smascherata. Allora io mi chiedo, anche in questo caso, se si è resa conto di non aver fatto una bella figura. Veramente posso dire una cosa? Secondo me se lo chiedono anche al CERN dopo la particella di Dio, a sto punto. Sì, dopo i neutrini che sono arrivati dall'altra parte, come diceva qualcuno. In realtà ci si chiede quale sia il cosente intellettivo della minchia woman furbazza. Ecco, qua andiamo a scalare poi una scala di valori a livello di universo, perché non lo so quanto è il calcolo. Allora, infinitesimale dico. Io propendo per un livello molto basso. Non credo che possa aspirare all'iscrizione al mensa. Tutt'a più potrà fare la richiesta della tessera punti del McDonald's, ma anche lì ho i miei dubbi che possa essere ben accetta. La donna minchia furbazza è anche quella che nega l'evidenza, portando avanti la sua tesi fino alla muerte, pur sapendo di raccontare frottole infarcite di bugie. Allora, lei fa così. Non ho mai fatto una cosa del genere, te lo giuro. Anzi, il contrario, credimi, le cose sono andate in questo modo. E inizia un racconto fuorviante, delirante, mentre tu sai già la verità e te la ridi sotto i baffi che non hai, grazie alla ceretta. Lei cerca di svicolare, svicola, svicola, piange, sbatte i piedi, implora, assumendo quell'atteggiamento infantile a settordecimila anni che provoca ancora di più quell'orticaria da rigetto di bugie stupide e mal nascoste. Con quella vocina smielata che la donna minchia furbazza prova a utilizzare per impiedosire la gente imbecille che ci casca. E il problema è questo, è che ci cascano alcuni, eh? Eh, però quelli dotati di intelletto non cadranno mai nel tranello della minchia woman furbazza e quindi la allontaneranno per sempre dalle proprie vite. Io credo anche usando dell'aglio e del crocefisso. Sì, così. Allora, io dico, a cosa serve tenersi tra i piedi un esemplare del minchia brand così detestabile? Me lo chiedo anch'io, me lo chiedo. Quindi meglio far spazio a nuovi elementi possibilmente accessoriati con cervello incorporato e salutare la furbazza con la manina riproducendo l'epica scena del treno del film di amici miei con lo schiaffo, se lo ricorda? Come no? Ma in questo caso al posto dello schiaffo ha anche la mazza da baseball, però va bene. Pure, tutto. La risata comunque è assicurata, la tua e non quella della donna minchia di furbazza. Che poi si sa, una persona furba è soltanto un'intelligente che non ce l'ha fatta. Vero, e che impegna molto di più la sua memoria a ricordarsi tutte le fesserie che ha detto in precedenza, quindi o c'ha un'agenda o se no è un super computer, beata lei che ha voglia di impegnare la mente peraltro. Non ce l'ha, non si ricorda, non ricorda. Non se lo ricorda, bene. Allora, cara Arci Duchesta, come al solito in queste 11 puntate abbiamo visto che i nostri telespettatori, quelli che ci hanno visto, insomma, ci sono incuriositi molto di questo minchia brand, come al solito pongono le loro domande, perché ormai la vedono come un punto essenziale nella loro vita sociale, in quanto spesso ci arrivano anche dei messaggi che noi ogni tanto comunque leggiamo molto piacevolmente, ma non proponiamo per un alto tasso, un alto tasso, punto. Per non rompere, questi rompono tantissimo. Allora, io se vuole le leggo quelle che abbiamo selezionato questa settimana, non sono molte, ma insomma alla fine ce n'è. Dice, carissima Duchessa, questa è Iris, una donna, carissima Duchessa, vorrei chiederle un consiglio. In questo periodo post-lockdown ho notato che la gente non saluta più come prima, tendono il gomito e pretendono che tu faccia lo stesso. A me questa cosa non piace, non so cosa fare. Cosa suggerisce il Galateo in questo caso? Un TSO, suggerisce un TSO. Forzato, vabbè. Questo è un uomo, Doriano, Doriano. Carissima Duchessa, lei mi spezza il cuore. Voci di corridoio dicono che anche la sua rubrica sta andando in vacanza e quindi per tutte le state non potrò ascoltare i suoi consigli. Come faccio con la mia amante che da giugno a luglio non potrò incontrarle perché rientrerò nella mia città per le ferie? Ecco, questo c'è un problema ancora più grosso, quindi. Allora, Doriano? Sì, Doriano. Allora, io per quanto mi riguarda sto per volare con la mia capsula criogenica e mi porterà, non lo so dove, vado. Io vado, vado, vado. E vabbè, ce ne faremo una ragione. E quanto alla tua situazione t'attacchi e tiri forte? Ecco, un po' breve e concisa, vabbè. Morris, un altro uomo, buonasera a Cito Chiesa, io non ce la faccio più. Ho mia suocera in casa da oltre tre mesi. Decide tutto lei, appena si sveglia, dà la colazione senza cordetti al pranzo alle 13 precise. La televisione non si può accendere prima delle 17, la cena alle 20 e guai a chi decide di prendersi una serata fuori casa per vedere gli amici. Cosa faccio? Fingiti morto. Fingiti morto. Vabbè, potrebbe essere... Lei dice che poi non li saltano sul cadavere, perché ho paura che magari lo cremano pure. Quindi non so se... Tanto ti finge morto e risolve, non sente nessuno, è a posto così. Benissimo. Allora, noi siamo arrivati alla puntata, ormai undicesima puntata, con la nostra Valentina Gemelli in arte, Arci Duchessa. Insomma, alla fine la ringraziamo per queste veramente 11 puntate che sono veramente state particolari, spettacolari, ci arrivano un sacco di film. Abbiamo detto minchiate. Sì, ma tanto poi in estate ne sentiremo delle altre, quindi anche in quanto, tra virgolette, autorevoli, ma va bene lo stesso. Noi ti ringraziamo Valentina, sappiamo che stai lavorando molto, quindi stai organizzando, hai una tua carriera professionale a livello cinematografico. Insomma, ci sono delle belle cose, siamo contenti per te. Ti aspettiamo ovviamente per la nuova stagione. E vieni sempre. Sempre. Grazie ancora Valentina. Grazie a te. Ciao. Ciao.